Nei giorni scorsi un incontro con Don Pino Covelli, memoria storica della festa della Madonna e dobbiamo dire che sicuramente avrà raccontato una bella storia. Sì, noi come fondazione abbiamo inteso fare questa videoproiezione con Don Pino Covelli che, come diceva lei, è la memoria storica di questa città. Ha scritto delle pagine bellissime, ha pubblicato tanti anni fa un libro che ci siamo ripromessi di farlo ristampare proprio per non perdere la memoria della città. Che cosa è emerso nel racconto di Don Pino? I tanti particolari che ha raccontato Don Pino ci hanno riempito d'orgoglio per un senso di appartenenza visto che probabilmente la Madonna di Capocolonna è l'unico momento che riesce ad unire tutti noi crotonesi al di là degli aspetti politici, degli ideali, ma la Madonna di Capocolonna è quella che ci unisce di più. Ha raccontato vari episodi, a cominciare dall'autore della tela, ha raccontato i vari miracoli che ha fatto nei secoli e, ripeto, questa ripubblicazione del suo libro sicuramente darà la possibilità a chi non conosce la storia di apprendere tanti bei particolari. Il video che avete fatto vedere, che video era? Allora, abbiamo fatto vedere due video. Uno datato 1928, che la famiglia Matruda, ringrazio pubblicamente, fece in quegli anni. È una prima parte in cui si vede la città come era costruita urbanisticamente in quel periodo e la seconda fase invece dove c'è la festa della Madonna. Era molto partecipata anche allora. L'altro video invece è più breve e lo fece nel 1955 il cavaliere Aurelio Bauknet in cui si vede la sfilata della Madonna dall'uscita della chiesa fino ad arrivare a Capocolonna. Quindi nei secoli, nel tempo, questa festa della Madonna continua ad essere il nostro punto di riferimento e di incontro? Sì, e come dicevo prima, è probabilmente l'unico punto di incontro che abbiamo noi crotonesi. Ecco, dovremmo prendere spunto, anche perché quest'anno sono 500 anni del suo ritrovamento e del settennale, partire da questa certezza ed avere un'unità di intenti in tutti i settori. Ecco, quello che chiedo è questo proprio, che la città risorga così come era tanti anni fa.